26 interventi di riqualificazione urbana sono già pronti nel progetto centro storico di napoli per la valorizzazione del sito unesco che è stato presentato stamattina a palazzo san giacomo dall'amministrazione comunale è il sesto grande progetto approvato dalla commissione europea per un valore di 100 milioni di euro e servirà ad avviare un processo di riqualificazione di una parte del centro storico di napoli intervenendo in particolare sul recupero la rifunzionalizzazione del patrimonio monumentale a scopi culturali sociali e del terzo settore riaprendo ai cittadini una buona parte di edifici ed aree archeologiche urbane attualmente abbandonate o sottoutilizzate e da riqualificare spazi urbani e per la sicurezza urbana i lotti previsti sono tre ed attraversano il centro storico con un'ampia area che include castel capoano il complesso dell'annunziata portalba santa chiara i tribunali piazza del carmine forcella e numerosi altri siti il provveditorato per le opere pubbliche della campania nelle prossime settimane aggiudicherà le prime gare relative al duomo e dai complessi dei santi severino e sosseo dei gerolamini e di san paolo maggiore grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale in particolare dagli assessori carmine piscopo e mario calabrese ed inoltre sempre qui sul portale della web tv del comune di napoli troverete le interviste al sindaco di napoli luigi de magistris al presidente della giunta regionale stefano caldoro e dall'assessore regionale lavori pubblici edoardo cosenza